il principe signor michele prendete ve ne prego buona spada e venite con me questo il campo principe san michele ora vuoi il comandare a noi seguire dovunque salzerà la vostra voce noi saremo breve il tempo signor san michele e breve la preghiera ma una cosa vi voglio domandare non ritornate questa sera su nei vostri stellati accampamenti senza per questo campo ripassare quelli di noi che troverete col viso nella terra vi prego non voltate se amico se nemico per vedere nelle tende di dio conduceteci tutti a riposare così elena bono